pronto sì salve sì ufficio contratti ah il corriere ci deve portare le risme di carta non mi risulta spieghi meglio allora siete della ditta che si è giudicato l'appalto di fornitura sì ok sì 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 la rossi mi ricordo mi ricordo e per dieci ok dieci pancali avete avuto l'aggiudicazione ma non l'ordine come in che senso allora l'aggiudicazione significa che voi sarete i fornitori ma prima di procedere all'ordine ce ne sono ancora di passaggi intanto l'aggiudicazione è soggetta alle verifiche quindi stiamo facendo i controlli sui requisiti soggettivi le dichiarazioni che avete fatto quindi ancora siamo lontani e poi non abbiamo stipulato è la stipula del contratto quella che determina certo no non è conseguenza sì voi avete ricevuto la comunicazione sul mepa che siete risultati aggiudicatari perché avete fatto l'offerta più bassa ma adesso dobbiamo fare le verifiche fatte le verifiche faremo la stipula del contratto eventualmente possiamo fare l'esecuzione anticipata ma serve comunque un nostro provvedimento con il quale noi vi autorizziamo a consegnare prima della stipula voi potreste anche non accettare ma diciamo tendenzialmente immagino di sì ma non certamente sulla base dell'aggiudicazione quindi adesso non possiamo no non possiamo accettarlo non possiamo accettarlo perché sarebbe un debito fuori bilancio quindi noi non abbiamo ancora definito la prestazione oltre al fatto che poi ci sono tutti i temi assicurativi di responsabilità per il deposito e fra l'altro non abbiamo neanche il deposito per 10 pancali per cui vi chiederemo la certo la fornitura sezionata diciamo in in più parti sì sì è indicato negli atti di gara è indicato ora mi dispiace probabilmente siete all'inizio dei rapporti con la pubblica amministrazione ma le regole sono queste l'aggiudicazione è un conto la stipula un altro eventualmente l'esecuzione anticipata ma dovete sempre attendere il nostro ok no nessun problema mi dispiace purtroppo non possiamo fare diversamente non siamo come nel privato che avremmo potuto accettare poi magari ci mettevamo d'accordo qui abbiamo delle regole formali abbastanza rigorose anzi le dico molto rigorose mi dispiace mi dispiace nessun problema bene arrivederci salve